signori signori con collegarmi a stavolta molti veicoli stavolta perchè devo essere stavolta vabbè comunque vi ricordo di lasciarmi a me mi piace di iscrivervi e attivare la campanellina se volete se volete altri video se volete altri video sto facendo la gara molti veicoli e ora non farò la roba che mi piace vabbè forse non mi concentro ma dai che figo figo vabbè figo no ma io pensavo che ero d'aereo ma no mamma un terzo mamma mia la prima volta che sono passato parla parla oh ma sei un problema fuck lo sapevo ma questo non lo sapevo vai ma basta ma perché mi sorpassate ma che vi ho fatto di male nella mia vita ho fatto di male nella mia vita ho fatto di male a voi parla parla eh cosa what the fuck what the fuck what the fuck no fuck i no if no 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 Sto per spiattolo Uuuu Dai ma perché? Non voglio essere sesto Vi prego Io non sono passato Let's go Oh my god Ma che cavolo è? Oh my god Oh my god Dai che lo sto operando Cosa? Per volare? What? Ma come? Questa cosa non ha senso Ma non ha senso Come puoi volare con la macchina? Oh my god Che c'è? No andarti a spiantare Ancora Ancora devo volare Voliamo C'è la macchina Sì Sono italiano Ok Oh god No god No god No god No god Please no 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 Oh my god No Oh my god 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 non non drifta sta macchina non drifta allora c'è mia madre però da nazione vabbè non posso mollare ora aia questa cosa non si è mai sentita ma chiudi la porta che sto parlando con uno spagnolo oh ma non voglio arrivare quarto però non voglio arrivare quarto non voglio arrivare quarto dai che sto arrivando vai vai che l'ho surpassata ma sta mappa è fuori di testa sta mappa è fuori di testa oh god ok vai forza forza non mollare forza non mollare forza non mollare dai ma c'è ancora quello primo come lo faccio se non passa vabbè termine la scuola si oh shish aiuto madonna sto volando sto volando sto volando oh god oh god oh god yes yes one minute eh vabbè oh god ok 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 finisce dai almeno sono arrivato secondo raga almeno sono arrivato secondo perchè non danno scolli vabbè ah perchè wow fammi capire io ho fatto posizione seconda e tra i primi tre i'm going to win oh my fucking god 3000 only oh my god what a stupid thing mhm 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 oh yes mhm 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 non è il nome fuck yes yes oh i'm scary i'm scary oh yes i'm scary i'm scary Oh no! The plane, the plane, the plane, the plane. No fucking plane. No fucking plane. I'm scared, I'm fucking scared. The bike, bike. The bike, let's go. Oh shit. I'm scary, I'm fucking hurt. Oh fuck. What? No way. Fuck. Oh fuck. Fuck. Man. No. Oh fuck. What the? Jump. Fucking jump. Oh fuck. Oh fuck. No fuck. I'm fucking scared. Ok. Ho trovato. Ho trovato, ho trovato. Ok. Ok. Ugh. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. What the fuck is supposed to be? Oh fuck. I'm here. I'm here. I'm here. Yes. No, no, no. no 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 what therecht is possible Parcours, parcours No, no possible No, no possible No, no possible No fucking possible Okay, okay I'm here, I'm here Hello? 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 Hello?